C'è il magazziniere. Una grande giornata per il Pescara, una grandissima giornata per te. Tre gol in questa partita, tre gol di ottima fattura. Possiamo dire senza tema di smentita che questa è la tua giornata più importante in carriera. Beh, sicuramente perché ci ha consentito soprattutto, ha consentito soprattutto alla squadra di chiudere bene e finire bene l'anno in un'ottima posizione di classifica. Quindi poi i tre gol fanno sicuramente piacere, un attaccante vive per quello. Ma ripeto, l'importante è che abbiamo chiuso bene e ci siamo posizionati meglio in classifica. Non era facile perché subito siete partiti sotto di due gol, anche se i gol della Serenitana sono nati da episodi. I vostri gol invece, tutto sommato, sono stati frutto di manovra e quindi sicuramente questo in qualche modo è indice di grande qualità. Sì, sicuramente, sono d'accordo e dico soprattutto che in un campo del genere andare sotto di due gol e riprendere la partita, andarla a vincere così, è sintomo che ci siamo e che la squadra ci crede sempre. Ripeto, andare sotto di due gol qui e poi ribaltarla è stato veramente importante. Aveva detto Fiorillo, dopo la vittoria con il Venezia ci sono state delle critiche ingenerose nei confronti di questa squadra. Squadra che ha vinto con il Venezia, ha vinto oggi in rimonta, squadra che ora è seconda in classifica a 32 punti. Chiudere il giro d'andata con così tanti punti è davvero fondamentale. Sì, sì, ripeto quello che ho detto all'inizio. L'importante era chiudere bene con un risultato positivo. Sono arrivati tre punti che ci consentono di passare sicuramente le vacanze in modo più sereno. Avete risposto alle critiche sul campo? Sì, ma noi siamo sempre stati tranquilli perché la squadra ha sempre dato tutto sul campo. Poi i risultati possono arrivare o meno, ma io credo che questa squadra in ogni partita ci abbia messo l'anima. Poi non si possono vincere tutte le partite, ma credo che con l'atteggiamento che abbiamo avuto nel tutto il giro d'andata porti a casa più punti possibili come poi è stato. Dal campo forse hai visto meglio, Leonardo, il pareggio del 2-2 del Pescara. Di chi è stato? Di Scogna Miglio, di Brugman, di Antonucci? No, ha calciato Brugman. Io ho provato a spizzarla, ma non l'ho toccata. La palla è arrivata sul secondo palo e Scogna Miglio l'ha toccata proprio sulla linea. Quindi a chi lo diamo? A lui il gol di Scogna Miglio. Leonardo, 12 gol fino ad oggi. Non avevi mai segnato tanto in Serie B, ovviamente, a parte l'esperienza di San Benetto del Tronto. A questo punto sei il vice capo cannoniere del campionato. Te l'aspettavi? Ma ci credevo, perché se non ci credi poi non ottieni risultati. Credo comunque già l'anno scorso di aver fatto anche in termini di gol un buon campionato. Ti stai specializzando nei gol di testa? Quest'anno l'obiettivo personale era migliorare e direi che nel girone d'andata è andato tutta la grande. Avete subito due reti, ma dal linguaggio del corpo sembrava evidente la tranquillità con cui avete risposto sul campo dopo l'erar doppio della Salernitana. Sì, ed è stato un segnale di grande maturità e un segnale di forza, perché andare sotto di due gol, come ho detto prima, su un campo così difficile, e ribaltarla così e vincere con quattro gol è sintomo che la squadra c'è e ha grande voglia di far bene. Avete anticipato i botti di San Silvestro? Sì, sì, direi di sì. È stato importante anche quel saluto finale con i tifosi, siete andati sotto la curva, avete lanciato magliette e pantaloncini a questi tifosi che anche oggi vi hanno incoraggiato dal primo al novantesimo e che hanno gridato pescara pescara anche quando eravate sotto per 2-0. Sì, ci hanno incitato per tutti i minuti, ma come sempre, quindi era l'ultima partita, hanno fatto tanti chilometri anche oggi, quindi penso che era doveroso andarli a salutare anche perché era l'ultima partita dell'anno. L'ultima, almeno da parte mia, tornando al primo tempo, nei primi 20-25 minuti, probabilmente a centrocampo un po' Brugman ha sofferto la pressione dei due registi della Serenitana, siete d'accordo? No, perché comunque sia loro, Brugman giocava più basso rispetto ai loro due centrocampisti, i due centrocampisti impostavano l'azione e sui loro due centrocampisti uscivamo o io o le due mezzali, quindi non penso che sia stato un problema di gas. Grazie, grazie all'attaccante del Pescara. Volevo dedicare la vittoria, oltre a tutto l'ambiente pescara, a un cagnolino che ci ha sempre accompagnato al poggio degli ulivi che al termine della rifinitura abbiamo trovato senza vita, quindi la vittoria va anche a lui.